Presso il palazzo del Regione Fru di Venezia Giulia di Piazza Unità si è svolto il colvegno Servizio Civile 2.0. Progettiamo il futuro. Parte dal Fru di Venezia Giulia l'invito ad un dialogo concreto sul futuro del Servizio Civile in Italia. Un obiettivo questo che al suo momento clune nella tavola rotonda in cui si sono confrontati nel pomeriggio la Presidente della Regione, Deborah Saracchiani, quello della Presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile Lucid Palazzini ed il Capo dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Raffaele De Cicco. I tre sono intervenuti partendo proprio dai temi evidenziati dai gruppi di lavoro costruiti nella mattinata in base agli ambiti di assistenza, associazionismo e cultura per mettere a fuoco proposte e richieste. I lavori del convegno sono stati avviati nella mattinata dall'Assessore della Cultura e Solidarietà Gianni Torrenti, dal coordinatore di Info Servizi Civile FWG Alberto Medi e da Franco Codega, Presidente della Sesta Commissione Consigliere Regionale Permanente. L'Assessore e Medi hanno evidenziato un'impostazione virtuosa data l'evoluzione del Servizio di Influenza Giulia in otto anni ed il prima sottolineato che l'attuale Ejecutivo considera i fondi messi a disposizione un investimento. Grazie.